ciao a tutti ragazzi a grande richiesta torna la tier list della juventus con i potenziali acquisti i giocatori di cui si è chiacchierato maggiormente in queste settimane vi avevo chiesto di raggiungere 2000 like all'ultima tier list che ho portato qui sul canale e avete veramente esagerato avete sfornato dei numeri incredibili e dato che in quella stessa giornata in cui vi ho portato quella tier list airway ha fatto un'altra tier list con gli acquisti del futuro che era esattamente quella che avevo promesso e cioè questa ho deciso di utilizzare la sua tra l'altro ci siamo sentiti telefonicamente in quel giorno ci siamo detti ma no ma incredibile abbiamo avuto la stessa idea di portare la stessa tier list qualcosa di incredibile quindi ho deciso di usare la sua ve la lascio comunque qui sotto in descrizione potrete utilizzarla anche voi per creare la vostra tier list io ho cambiato le etichette per cercare di adattarla un po più al mio stile quindi quello che secondo me avverrà effettivamente sul mercato della juve sarà interessante poi vedere a seconda anche dei ruoli dove andremo a posizionarli al di là delle caratteristiche dei singoli giocatori quindi direi che possiamo iniziare subito piccola precisazione ci sono diversi giocatori che non ho mai visto giocare che ho letto tante volte come potenziali acquisti della juventus quindi cercherò di metterveli subito nella categoria chi li conosce nel senso che io non li conosco per dire badia shill è un giocatore che io ho letto tante volte come possibile potenziali acquisti della juventus non l'ho mai visto giocare quindi difficilmente andrò a darvi un giudizio come david neres che potrebbe arrivare no abbiamo parlato la settimana scorsa ma io l'ho visto veramente poco pochissimo giocare come lo stesso anthony che è un nome che sta gasando tantissimo un sacco di persone credo di vedere quotidianamente degli spezzoni di skill di anthony ma non ho mai visto delle partite vere e proprie tutti i giocatori praticamente che giocano nell'ajax più il campionato francese che che io non seguo quindi non lo so lo stesso gravenberge che comunque dovrebbe andare al bayern monaco è promesso sposo la juve era anche interessata io non lo conosco lo conosco per nomea ma non è seguito così tanto questo dovrebbe essere un terzino destro dell'ajax e questo è weindal che è uno dei terzini sinistri che vedo spesso no chiacchierati ottica juventus del tipo ecco lui è un bel prospetto non lo metto assolutamente in discussione ma io personalmente non li conosco quindi difficilmente riuscirò a dare un giudizio completo detto questo mi invito a mettervi comodi a lasciare un altro like fatemi sapere se volete un'altra tier list a 2000 like come al solito vi porto una nuova tier list iniziamo con i profili che conosco qua c'è assenzio ricordo un gol di assenzio a un certo punto una finale di champions non ricordo esattamente per quale motivo ora sto leggendo che potrebbe rinnovare core al madrid sulla base di 7 milioni di euro l'anno io non penso che sia un acquisto per la juventus quindi io inaugurerei la categoria ma che sono quei giocatori che non capisco effettivamente perché dovrebbero essere acquistati dalla juve non credo che che possa essere un profilo che ci possa dare qualcosa poi magari sbaglierò io però io a senso a 7 milioni l'anno direi proprio di no gareth bale sappiamo bene no il giocatore che ormai fuori al progetto del madrid se ne andrà bla bla super pagato ecco io qua invece lo metto in manco per sbaglio non tanto perché bale sia scarso perché non lo è assolutamente in questo momento ha finito finito di ragionare con un atleta di calcio giocatore completamente fuori al progetto real madrid giocatore che ha altre intenzioni nella vita sappiamo lui vorrebbe giocare a gol diventare giocatore golf professionista in questo momento ha un po lasciato stare quella che invece è il percorso da calciatore non andrei mai in questo momento ad offrire un contratto multimilionario a gareth bale nonostante il potenziale arrivo parametro zero di un giocatore che aveva tantissimo disposizione e che un po si è perso negli ultimi anni poi non dimentichiamoci che qualcosa come quattro anni fa ha deciso una finale di champions league ma questo è un altro discorso quattro anni nel calcio sono un'era geologica berardi di berardi io abbiamo già parlato tante volte mi ricordo di aver trattato l'argomento anche durante la partita d'italia macedonia anche poco prima di quel gol fantastico sbagliato da berardi a porta vuote al mio giudizio non cambia e lo metto in ma che è un giocatore che ci starebbe eventualmente come riserva però dover andare a pagare 30 35 milioni quello che è il cartello di berardi e utilizzarlo come riserva giocatore del 94 quindi con non grandissimi margini di miglioramento e di crescita credo proprio che sia molto molto complicata bremer ecco invece su bremer direi che sarebbe un grandissimo colpo il problema è che probabilmente la juventus non riuscirà a tesserare bremer qua va ai piani alti quindi non arriva mai o da prendere io io penso che non arriverà mai io credo che la juve non farà un investimento di quel tipo per la difesa perché si parla di una trentina abbondante forse di milioni di euro per un difensore del torino che è anche promesso sposo all'inter quindi io penso proprio che bremer non arriverà mai ma sarebbe veramente un grandissimo acquisto cristante anche di cristante io ho già parlato che cosa ce ne facciamo effettivamente di cristante buon giocatore per allungare la rosa giocatore che deve essere uno dei sostituti io cristante lo sento un po come il nostro bernardeschi quindi un giocatore che non può avere i gradi da titolare come ho ragionato per berardi quindi secondo me si merita la stessa posizione due campioni d'europa in carica ecco la nazionale italiana per l'amore del signore però se vogliamo pensare a qualcosa di più per la juventus penso proprio che cristante non possa essere il giocatore da mettere lì frankie de jong io de jong ragazzi ho un feticcio ne parlo da anni di frankie de jong secondo me è in assoluto uno dei centrocampisti migliori da poter andare su cui investire il problema è che costa tanto ora in queste ore si mormora di una rottura col barcellona tenag è andato al manchester united io non so faccio questo parallelo molto molto veloce è vero che del manchester united si parla anche di altri giocatori che vedremo dopo credo che non arriverà mai alla juventus però sarei contento di sbagliarmi perché esattamente un centrocampista è quello che cerchiamo da tanto quindi sarebbe veramente figo riuscire a tesserare dai jong e riunirlo insieme a mattais delit per formare una juventus olandese la juventus agli olandesi che bello che sarebbe osman dembele giocatore che si svincola praticamente quest'anno sta finendo in crescendo dopo alcune stagioni travagliate dal punto di vista fisico secondo me sarebbe un buon acquisto io dembele lo metto in buon acquisto soprattutto perché a noi mancano dei giocatori di quel tipo noi abbiamo carenza ve l'ho già detto tante volte lato analisi che abbiamo pochi esterni attacco un giocatore del genere che si libera parametro zero potrebbe essere buono e ovviamente stiamo parlando di un 96 quindi nel momento clou della carriera non con grandi picchi di miglioramento ma con quello che dovrebbe far vedere adesso per essere ricordato come giocatore di un certo tipo è un giocatore che è stato pagato tanto dal Barca qualche stagione fa un po' si è perso un po' per faracci suoi un po' per problemi fisici bisogna ragionare sull'ingaggio ma secondo me dembele in generale è un buon giocatore depai allora ecco depai è un giocatore un po' strano invece non so esattamente probabilmente ve lo metto comunque in buon acquisto depai piace ne avevamo parlato anche a gennaio non mi sarebbe dispiaciuto un arrivo di depai alla juventus bisogna capire che cosa vogliamo fare esattamente depai è un giocatore che gioca anche largo però è un giocatore che si trova bene tra le linee quindi se si stiamo spostando da quel discorso legato a Dybala non so se è il giocatore giusto che serve alla juventus secondo me depai è un buonissimo giocatore però ho un po' di dubbi Di Maria ecco allora io Di Maria invece a parametro zero ve lo metto in da prendere ieri perché so che la Juve ci sta ragionando anche Romeo Agresti ce l'ha confermato è stato ufficialmente offerto alla juventus anghel Di Maria che è in scadenza di contratto col psg avrebbe un'opzione per il rinnovo ma si sta comunque guardando in giro vorrebbe cercare di fare qualcos'altro a me Di Maria piace tantissimo Di Maria un anno di contratto più uno opzionale a 33 34 anni quelli che sono prima del suo addio definitivo al calcio e ritorno in patria in argentina lo prendo lo prendo lo prendo uno di quei giocatori che veramente ti fa fare il salto di qualità Donna Rumma sempre il psg allora guardate io ve lo metto in da prendere ieri perché letteralmente era da prendere ieri quando era a parametro zero la Juventus ci ha provato poi non si è riuscito a trovare un incastro con Cesni di Cesni abbiamo parlato nelle pagelle di Sassuolo e Juventus dicendo che c'era a fargli una statua non penso che in questo momento la Juve abbia la necessità, la fretta di andare su un portiere Donna Rumma con Keylor Navas ha qualche problema a Parigi perché sono due galli in un pollaio se la Juventus avrà la volontà, la voglia di cedere Cesni in questa finestra di mercato allora poi Donna Rumma diventa interessante però era da prendere ieri che era gratis io ad oggi non penso che la Juve voglia fare un investimento pagando il cartellino di Gigio Donna Rumma che rimane uno dei portieri più promettenti in futuro e tutto in mano sua però non penso proprio che la Juventus voglia fare un investimento sotto questo punto di vista quindi da prendere il parametro zero a un conto oggi diventa difficile perché guadagna tanto perché il cartellino costa tanto perché la Juve è Cesni perché non ci si sta pensando in questo momento di cambiare portiere quindi da prendere ieri Emerson Palmieri che torna fuori sempre io ve lo metto in ma ve lo metto in ma perché è un giocatore che io da qualche anno a questa parte su Emerson Palmieri dico ma secondo me arriva, secondo me arriva, secondo me arriva due o tre anni che dico così quest'anno ho detto basta invece sembra che la Juventus stia comunque opzionando Emerson Palmieri boh boh non lo so penso che si possa fare magari qualcosina di meglio magari Weindal di cui abbiamo parlato prima che io non conosco però la Juventus avrà una rete di osservatori più larga rispetto a Luca che guarda la partita durante il weekend quindi spero proprio di sì non lo so Emerson mi sembra un giocatore un po' così Frattesi, a me Frattesi piace molto ci ha fatto dannare anche nella partita tra Sassuolo e Juventus forse è un po' per il futuro probabilmente la Juventus oggi dovrebbe fare un acquisto diverso a centrocampo un giocatore già pronto immediatamente poi magari entrare in possesso di Frattesi lasciarlo a Sassuolo per un'altra stagione non dimentichiamoci che la prima serie ha avuto un ottimo impatto sembra veramente un buon giocatore oggi per la Juventus a centrocampo però prenderei un nome già fatto, pronto, finito che sono quei nomi che a Massimiliano Allegri mancano per rimettersi la Juve in mano come ce l'aveva magari qualche stagione fa e non significa non entrare in possesso di Frattesi se c'è la possibilità significa semplicemente ragionare sul futuro senza averlo già direttamente dentro la Juventus Gabriel Gesùs me piace molto ragazzi a me Gabriel Gesùs piace molto io ve lo metto in da prendere ieri non in non arriverà mai perché secondo me la possibilità di arrivare a Gabriel Gesùs per la Juventus c'è penso proprio che non sia impossibile insieme a Vlaovic mi piacerebbe tanto come attacco poi facciamo il discorso che facevamo per Depay prima allora stiamo cercando una punta che vada lì che cosa stiamo cercando? degli esteri 4-3-3 4-4-2 qual è l'idea? dove vogliamo andare a parare? però a me Gabriel Gesùs piace tanto poi lui gioca anche esterno senza problemi lo ha già fatto anche al City a me piace molto come a me piace molto anche Joao Felix che guarda ve lo metti non arriverà mai però non è in da prendere ieri perché non c'è stato un momento storico in cui costava poco e quindi hai perso la possibilità non c'è non c'è stato è stato super pagato penso che l'Atletico che è una squadra ricchissima in questo momento non abbia la volontà di privarsene a poco quindi lo metto in non arriverà mai perché non credo che ci sia la possibilità da parte la Juve di acquistarlo a poco Giorginho io Giorginho ragazzi ve lo metto in da prendere ieri ma vi spiego anche il perché probabilmente converrà a prenderlo tra poco cioè quando quest'estate forse il Chelsea libererà gratis dei calciatori o bene o male gratis per una serie di questioni che abbiamo già ripetuto tante volte da prendere ieri perché abbiamo bisogno di centrocampisti in grado di trattare il pallone da anni da anni e da prendere ieri era l'anno in cui Sarri lo aveva richiesto quando magari si è cercato di posticipare il cambio di Pjanic con Arthur che era stata la richiesta di Sarri Giorginho poi è esploso perché in quel momento lì non aveva ancora raggiunto questi livelli è migliorato tantissimo è diventato titolare del Chelsea con cui ha vinto Europa League Champions League Coppa del Mondo per Club Supercoppa ha vinto l'Europeo con l'Italia è diventato un centrocampista di fama internazionale da prendere quest'estate a poco io lo sapete ci faccio la firma assolutamente sì vabbè Lautaro Martinez lo metto in non arriverà mai così era una provocazione di Airway così come Leao che sì ho letto qualche rumor ma dai cerchiamo di rimanere seri così come non arriverà mai purtroppo Robert Lewandowski Robert Lewandowski che dovrebbe scadere tra un anno il Barcellona è interessato all'acquisto Salia Mizdi ci ha detto che però Lewandowski in teoria dovrebbe rimanere un'altra stagione al Bayern Monaco so che si stanno un attimino confrontando per capire se ci sono i margini certo pensare Lewandowski al Barcellona deglutisco male perché madonna incredibile non penso che arriverà mai da noi soprattutto ora che abbiamo preso Vlaovic penso proprio che sia difficile come non penso che arriverà mai ma poi è ovvio che questi mai sono dei mai al 99.9% periodico sapete che io nel calcio lascio sempre quella minima piccolissima finestrella aperta ma stiamo parlando veramente di trattative ragazzi che vanno fuori dal senso umano Zebrasun sì ci credo Milenkovic io Milenkovic ve lo metto in buon acquisto perché penso proprio che sia un giocatore che la Juventus potrebbe addirittura andare a prendere è un giocatore che ha un costo ancora relativamente basso si parla addirittura di una clausola che non si sa se è attivo oppure no andiamo insistiamo compriamo tutti i serbi della Fiorentina li vogliamo tutti noi no Milenkovic bel giocatore mi piacerebbe un sacco uno da prendere ieri è Milenkovic Sergei Milenkovic perché perché era da prendere davvero ieri o qualche stagione fa o comunque un giocatore che a me piace storicamente tanto ultimamente vi ho portato anche qui sul canale un'analisi tattica perché un nome chiacchierato sembra un nome possibile per la Juve attenzione che il Manchester United breaking news sul giocatore avrebbe addirittura avanzato una delle prime offerte perché Pogba sta uscendo dalla Juventus adesso è dalla Juventus ancora lo stiamo rivendendo sta uscendo da Manchester United e hanno bisogno quindi di un centrocampista Milenkovic potrebbe essere quel profilo lì io non so quanto la Juventus abbia il cash per fare un colpo del genere io ve l'ho sempre detto io la vedo difficile che Milenkovic possa arrivare però io rimango in attesa di vedere nell'involversi della situazione dato che di questo stanno parlando Luka Modric lo metto in non arriva mai perché rinnoverà il suo contratto con il Real Madrid si era parlato di Juve perché era in scalenza di contratto alla fine non c'è stato niente sarebbe stato un giocatore davvero superiore quindi secondo me non arriverà Molina molto molto interessante io ve lo metto per il futuro perché comunque è un giocatore secondo me che è in una posizione di campo il centrodestra dove la Juventus non ha priorità al momento entrare però in posizioni in pole position per il calciatore addirittura iniziare ad avere una vera e propria trattativa con l'udinese per garantirselo in futuro non sarebbe male ad oggi la priorità la darei sulla sinistra quindi ve lo metto per il futuro non perché non penso che sia pronto non lo so però però probabilmente non per la prossima stagione della Juve Paredes ma Paredes non so che cosa vuoi fare Paredes a me piace cioè non è un sono indicio tra il ma e il buono a me piace ma non capirei forse oggi un acquisto di Paredes perché probabilmente serve anche qualcosa in più per la Juventus nell'immediato Pogba non ve lo metto in un arriva mai perché lo sapete secondo me è possibile allora facciamo una cosa Pogba per questa Juventus e per questo livello di Serie A è da prendere ieri poi infortuni discorsi legati alla condizione fisica secondo me in questa Juve e in questa Serie A Pogba gioca in ciabatte fino a 35 anni gli do altri 5 anni di buono per giocare in ciabatte visto che il livello si è abbassato molto non so se arriverà perché comunque è un'operazione complicata però Pogba col centrocampo che abbiamo ragazzi non possiamo metterci a schifare Pogba cioè parliamoci fuori dei denti in maniera chiara Raspadori potrebbe essere per il futuro ma io ve lo metto in buon acquisto mi piacerebbe Raspadori già a partire dal prossimo anno alla Juventus piacerebbe tanto non ho già parlato tanto sapete quello che penso secondo me è legato a Moise Ken più che a Di Bala Di Bala verrà sostituito o da un centrocampista o da un esterno o da un centrocampista e un esterno proprio a livello di qualità e andiamo a prendere quel posto lì di Raspadori secondo me lo lascia Moise Ken Renan Lodi posso metterlo io non arriverà mai non ci credo che la Juventus possa fare una trattativa del genere con l'Atletico per un terzino signore proprio no Romagnoli posso mettervelo in manco per sbaglio a me Romagnoli piaceva poi non so se ha perso anche il posto da titolare nel Milan ha perso il posto da capitano ha perso addirittura probabilmente il rinnovo qualcosa sotto ci deve essere cioè se no il Milan se lo tiene stretto e il Milan ha una sua impronta in questo momento che non non solo non rinnova però questo non gioca proprio cioè che si non rinnova ok molto probabilmente sta giocando Donnarumma non rinnovava ma giocava Romagnoli manco gioca quindi non lo so purtroppo purtroppo Rudiger non arriverà mai allora a me fa ridere che la gente mi venga sotto i video a commentare a dire ma avevi detto che Rudiger arrivava a Juve io ragazzi vi ho riportato una notizia quella era una notizia e vi ho detto ci sono delle chiacchiere tra Rudiger e Juventus vediamo sembra fatta sembriamo i dettagli io lì addirittura dico ci sono rimasto male perché dal nulla così la gente mi viene a commentare dicendo tu hai detto che sì io ho dato la notizia di Rudiger la Juve sono stato io Rudiger che firmerà con il Real Madrid a me dispiace veramente molto 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 ma veramente tanto mi dispiace perché Rudiger sarebbe stata una grandissima coppiata difensiva Momo Salah io ve lo metto qui dal giorno zero che vi ho detto ragazzi ma Momo Salah la Juventus ma secondo voi Salah la Juve ma di cosa stiamo parlando quindi io addirittura esagero apprezzo di più Di Maria a zero piuttosto che Salah ha 100 milioni pagato più l'ingaggio non perché consideri più forti di Maria secondo me Salah è di un'altra categoria stanno parlando però di un calciatore che ha 30 anni contro un calciatore 34 anche qua dicevamo 4 anni sono in ragiologiche nel calcio Salah ha 100 milioni e di Maria a zero io non voglio investire sui trentenni non voglio investire se poi c'è una possibilità di prenderli praticamente a zero e far in modo che si paghi meno l'ingaggio col decreto crescita e che sia un giocatore di qualità i ruoli scoperti che possano dare manforte alla Juventus io li prendo Salah secondo me è impossibile Scamacca e allora facciamo una cosa Scamacca è un buon acquisto perché Scamacca sarebbe assolutamente un buon acquisto io lo lascio lì per il momento però è ovvio che la Juve oggi non serve Scamacca era stato pensato per quest'estate abbiamo preso Vlaovic quindi non ce ne facciamo sostanzialmente niente di un altro giocatore così sono attaccanti comunque diversi ma su un due centro avanti la Juve non andrà mai a fare un investimento per Scamacca diverso invece Gabriel Jesus perché è un attaccante più mobile diverso da Scamacca che potrebbe anche integrarsi meglio con Vlaovic questo dovrebbe essere Destiny Udoge allora secondo me è un buon acquisto e lo metto in buon acquisto è vero che ci sta per il futuro io vorrei un terzino sinistro già pronto sono sincero piuttosto che Destiny Udoge però è un giocatore interessante e alla Juventus lì manca qualcosa quindi potrebbe addirittura essere già un buon acquisto io sarei più per il futuro ve lo metterei guarda anzi ve lo metto per il futuro però lo considero un buon acquisto già da avere per essere per fare in modo che sia nostro vero e tu è vero tu piace per dire giocatore che a me piace però lo metto in ma quello che dicevo prima con Paredes alla Juve serve qualcosa di più secondo me oggi come oggi cioè i centrocampisti che vi ho messo in sono Pogba Milinkovic Giorginio secondo me sono tre nomi questi qua che la Juventus deve valutare poi che mi piacciono un sacco c'è Frenkie de Jong che non arriverà mai Modric che non arriverà mai perché rinnova questi sono secondo me i centrocampisti i nomi più importanti più interessanti per la Juve poi è ovvio che Paredes chi veri tu Cristante voglio metterci Cristante sono nomi che possano venire fuori però e Zagnolo secondo me ragazzi è un buon acquisto perché Zagnolo a me piace però è sempre il discorso che vi ho fatto su Zagnolo Raspadori rimane quello se Raspadori costa 35 Zagnolo costa 70 ma io non ci penso neanche due volte cioè io io so la risposta io so che cosa voglio tra le due e sicuramente non è Zagnolo a 70-80 milioni e niente ragazzi questa è la tier list l'ho completata ovviamente ve lo ricordo questa è la tier list di Airway quindi passate dal suo canale andateglielo a dire che gli ho fatto la tier list che gliel'ho rubata fatemi sapere anche voi ve la lascio comunque qui sotto in descrizione fatemi sapere anche voi se siete d'accordo con questa valutazione che ha dato i calciatori e se conoscete quelli che ho messo in chi li conosce fatemi anche un resoconto veloce tecnico tattico di quelli che sono i profili di questi calciatori qua un abbraccio ragazzi vi ricordo 2000 like prossima tier list